4-2-3-1 5-2-3-1 6-2-3-1 6-2-3-1 6-2-3-1 6-2-3-1 7-2-3-1 7-2-3-1 7-2-1-1 7-2-3-2-3-1 7-2-3-0 7-2-3-2-3-1 il primo è far capire loro che questa può essere una soluzione da effettuare in partita per cercare di trovare spazi e creare occasioni in base alla pressione che ci portano gli avversari o può essere utilizzata come codifica preimpostata. Se l'esercizio ti è piaciuto ti invito a lasciare un mi piace e un commento per farmi sapere cosa ne pensi e ti consiglio di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sui prossimi video.